Qualcuno riesce a votare? Mi pare che abbiano votato tutti. No? Bene, hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 251 favorevoli, 93 contrari, la Camera approva. Passiamo all'articolo 3. Chiedo alla relatrice i pareri riferiti agli emendamenti all'articolo 3. Grazie. I pareri sono tutti contrari, tranne il Pini 3.01 e invito a ritiro. Il quale si può specificare, per favore? Pini 3.01 e invito a ritiro. Sì. Il Governo? Anche per noi tutti negativi, tranne il Pini, invito a ritiro, altrimenti di parere contrario. Allora, ringrazio. Pini. 3.2, 3.3 e 3.4. No, se mi può leggere anche il nome oltre al numero. Ah, mi scusi. Pesco 3.2, Sibiglia 3.3, Pesco 3.4, Sibiglia 3.16 e 3.18. Contrario. Tutti gli altri favorevoli. In merito all'invito a ritiro del 3.01, se ciò è propedeutico l'approvazione di un ordine del giorno che recchi nel dispositivo l'obiettivo indicato dall'emendamento, accetto l'invito a ritiro. Però qui devo capire... Chiaro, vediamo se il Governo interviene. Se vuole intervenire, insomma. No, va bene, no, la ringrazio. Prego. Grazie, Presidente. Soltanto in attesa di leggere, ovviamente, l'ordine del giorno. Va bene, tanto abbiamo tempo, abbiamo altre votazioni prima. Quindi, Pesco 3.2, pareri contrari di Commissione. Governo, Alberti, prego. Solo per dichiarare voto favorevole. La ringrazio. Villarosa.